Ben trovati amici, oggi volevo dare un aggiornamento molto veloce ai numerosi clienti che stiamo assistendo nella vicenda del Consorzio Sky. Moltissime sono state le querele, si tratta di un genere al contractor che noi definiamo aver agito in totale pregiudizio dei nostri assistiti in quanto ha fatto dei prelevamenti dai cassetti fiscali senza aver realizzato neanche un lavoro, anzi nella maggior parte dei casi nessun lavoro e pochissimi lavori in alcuni casi. Ebbene, la notizia è che stanno pervenendo al nostro studio a seguito delle denunce alcune richieste di archiviazione da parte della procura del Tribunale di Napoli. Ebbene, questa notizia è assolutamente positiva, anche se non lo sembrerà in apparenza, ma vogliamo assolutamente confortarvi di questa notizia in quanto abbiamo estratto le motivazioni e dalle motivazioni apportate dal GIP e dal PM emerge chiaramente che intanto vengono confermati i reati più gravi, quindi l'archiviazione non è rivolta ai reati più gravi che sono associazione delinquere finalizzata alla frode fiscale, quindi reati assolutamente molto gravi. Ma nelle stesse motivazioni la procura e il Tribunale confermano la correttezza delle denunce. Il fatto di aver denunciato, infatti, solo per coloro che hanno seguito la procedura correttamente attuata, quindi dal nostro studio, sono assolutamente sgravati e questo è fondamentale. Dalle motivazioni si trae, infatti, che c'è uno sgraviamento di responsabilità e quindi il cliente che ha denunciato, il contribuente che ha denunciato, ha fatto benissimo a farlo, in quanto per questo motivo non risulta corresponsabile nel reato di truffa, ma non risulta allo stesso modo neppure parte offesa. Ed è questo il passaggio molto interessante, perché la Procura e il Tribunale, nel dire questo, interpretano la circolare 33 dell'Agenzia delle Entrate, dicendo che grazie a queste denunce, sostanzialmente, la totale esternità viene comprovata, il danno non è subito direttamente dal contribuente, in quanto appunto vengono annullate anche quegli importi, quei prelevamenti che fanno parte del cassetto fiscale, dei crediti di imposta. Quindi viene come liberato automaticamente, anche se formalmente viene, ovviamente risulta che c'è un prelevamento, ma grazie a questa procedura si può ritenere assolutamente impossibile che l'Agenzia delle Entrate possa andare a chiedere la restituzione di questi importi. Se mai, dice appunto la Procura, il danno quindi viene di conseguenza subito o dallo Stato, o dagli intermediari che hanno acquisito questi crediti, ma la parte offesa non è il contribuente perché appunto, grazie a questo protocollo attuato dal nostro studio e quindi grazie alle denunce, si è reso totalmente strano e si è ripulito, diciamo così. Naturalmente il nostro studio darà le comunicazioni ai singoli clienti direttamente via mail nei prossimi giorni.